Federica Nargi, ecco la prima foto con Sofia dopo il parto E già passato un anno da quel momento indimenticabile Federica Nargi decide di celebrarlo così, nel modo più dolce in assoluto, ecco la prima foto dell'ex velina con la sua primogenita, Sofia, appena nata. Le fan sono totalmente conquistate da questo post e augurano tanti auguri alla splendida famiglia. Federica Nargi cuore di mamma, posta la prima foto con Sofia. C'è un momento, appena dopo il parto, in cui una donna si rende conto, davvero, di essere diventata finalmente mamma. E Federica Nargi ha deciso di condividerlo con noi, con un post meraviglioso su Instagram. Ecco la prima foto che ritrae la bellissima 27enne con in braccio la piccola Sofia quando, dal parto, sono passati pochissimi e secondi. L'occasione, ovviamente, è particolare, la bimba compiuto un anno e la sua mamma, dolcissima, ha deciso di fare un regalo a tutte le sue fan, condividendo questo particolare frame che ha cambiato totalmente la sua vita e quella del compagno, Alessandro Matri, orgoglioso papà di Sofia. Federica è stesa sul lettino della sala parto, in una delle pose più intime e toccanti che esistono al mondo, sulla pelle nuda dell'addome dove prima spuntava il suo bellissimo pancione ora c'è il suo gioiello più grande, la sua bambina, che si accoccola tra le braccia della mamma avvolta in una candida copertina. Piange, Sofia, come tutti i bimbi quando vengono staccati, almeno fisicamente, dalla loro madre, con il taglio del cordone ombelicale che li ha tenuti finora in vita. In realtà, ogni neo mamma, nel momento stesso in cui accoglie la vita che, piena di calore, freniti e singhiozzi, si fa strada sulla sua pelle in cerca di un abbraccio, sa perfettamente che quel legame non verrà mai nettamente spezzato. Perché la mamma è la mamma, e non è una frase fatta, ma una profonda verità partorita dopo nove lunghissimi mesi di attesa. Ed eccola qui Federica, proprio nel momento preciso in cui tutta questa nuova consapevolezza la invade totalmente e la lascia naufragare in un mare di dolcezza, mentre guarda, con amore, il suo piccolo capolavore. Il dolce messaggio di Federica Nargi alla sua piccola Sofia. Quanto può essere potente un'immagine? Tanto, ma le parole, talvolta, possono fare anche di più. Ecco cosa scrive mamma Federica Nargi su Instagram, nel messaggio che accompagna la sua prima foto con Sofia dopo il parto. Il nostro primo incontro piccola mia, lo ricordo come fosse ieri, queste le prime parole dell'ex velina, che proseguono così. Tremavo, piangevo, finalmente ti stringevo a me. Come per magia la tua piccola vita ha fatto diventare grande la mia. Infine, chiude con una frase carica di emozione, grazie per avermi regalato questo primo anno d'immensa pura felicità. Tantissimo amore a legge sul profilo della Nargi, che non si limita a condividere il suo primo momento con la figlia, ecco anche l'amorevole papà, Alessandro Matri, con in braccio la piccola Sofia alla sua prima festa di compleanno. I sorrisi sono immensi e carichi di una grande gioia che li ha accompagnati per tutta la giornata di festeggiamenti, visibilissimi sul viso pitturato della baby protagonista. E gli auguri di buon compleanno, dopo questi scatti meravigliosi, arrivano da tutto il web. . .